ciao a tutti voglio parlare in questo video del profilo di una persona infedele una persona infedele ha fondamentalmente tre caratteristiche che ti permettono di riconoscerla la prima è che è gelosa perché sembra un paradosso ma chi è geloso tende a tradire tende a tradire in modo preventivo diciamo comunque tende a tradire la seconda caratteristica è che vuole avere il controllo di ciò che fai di ciò che dici di dove di dei tuoi spostamenti e quindi una persona che oltre a essere gelosa è anche manipolatrice perché i manipolatori le manipolatrici vogliono avere il controllo della situazione e la terza caratteristica fondamentale è che si tratta di una persona iperlogica cioè cervellotica pignola che predilige un po i rapporti simmetrici quando la prima cosa che gli viene spontanea dire in un'interazione e no e quindi insomma queste sono le tre caratteristiche fondamentali che non è che perché una persona ha queste tre caratteristiche deve essere per forza infedele però gli infedeli hanno una o più o due o tre di queste caratteristiche quindi insomma se le noti presta attenzione semplicemente bene per questo video è tutto se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta se il video ti è piaciuto metti un like e condividilo con i tuoi amici ciao